Questi giorni è iniziato il secondo taglio generale, considerate che un taglio sul territorio del comune di Pesaro è circa di un milione e mezzo di metri quadrati, quindi tanto, soprattutto non sono tutti insieme, sono dislocati su tutto il territorio comunale, quindi dalle frazioni al centro storico, alla zona mare, ai quartieri più centrali, quindi il lavoro è tanto. Quest'anno purtroppo per fortuna l'estate è arrivata molto presto, unita al tanto caldo e unita alla pioggia ha fatto sì che l'erba crescesse e come dico sempre l'erba cresce tutti insieme ma purtroppo non si riesce a tagliare tutti insieme, quindi noi stiamo facendo veramente un lavoro esponenziale nei numeri e anche negli sforzi che si stanno facendo. In questi giorni ci sono più di 100 nostri addetti tra dipendenti di Aspes e dipendenti delle aziende che lavorano per noi, a questi vanno aggiunti circa 150 volontari che ci aiutano in alcune parti della città, lo sforzo è tanto, chiediamo di avere un pochino di pazienza proprio per quello che dicevo prima. Quest'anno si è partiti, nonostante si è partiti prima abbiamo una crescita dell'erba legata appunto a questo clima caldo e poi subito pioggia, poi di nuovo caldo che ha fatto arrivare l'estate prima ma che fa crescere anche l'erba tutta insieme, tutta in maniera molto veloce e con grandi sforzi da parte nostra poi per tagliarla. Quindi magari a chi lamenta situazioni di abbandono, di periferie magari dimenticate possiamo rassicurare che si arriverà dappertutto? No, noi arriviamo dappertutto, come ho detto abbiamo già fatto dappertutto il primo taglio, Aspes taglia 8 milioni circa di metri quadrati di erba in un anno a più riprese nei tagli che facciamo, arriviamo sempre dappertutto, ormai le aree sono consolidate negli anni e sono sempre quelle, la programmazione è quella, ci sono dei momenti, dei periodi in cui si è un pochino più in difficoltà perché come dico basta con un caldo così, basta due gocce di pioggia e l'erba che stiamo tagliando alle nostre spalle. Fra una quindicina di giorni è ora di ritagliarla e non sempre si riesce ad arrivare in quei tempi, quindi chiediamo un pochino di pazienza, chiediamo anche un aiuto, facciamo un plauso a quei cittadini che segnalano e ancora di più un plauso ai cittadini che ci aiutano, sono circa 150 forse di più che sono arrivati, che ci danno una mano con il loro lavoro di volontariato, nell'esperienza bellissima di volontieri volontari e come sempre cercheremo di portare la città ad essere nel giro di poco, alla perfezione anche dal punto di vista della cura e del taglio dell'erba. E per chi fa spesso segnalazioni su questo tipo di problematiche di erba incolta, di vegetazione selvaggia, va precisato che le aree pubbliche sono tante ma ci sono poi anche quelle private di difficile gestione anche per l'ente pubblico. Sì, noi non possiamo andare sulle aree private, molto spesso le segnalazioni che arrivano sono anche di condomini, di aree che sono convenzionate con il comune dal punto di vista urbanistico, aspetta il privato fare l'intervento, molta gente non lo sa, quindi anche per noi c'è un duplice lavoro che è quello di avvisare i condomini, il condomini dove serve per arrivare poi a far sì che anche in quegli spazi che sono privati e non sono di spettanza né del comune né di aspese di conseguenza, per far sì che anche lì l'erba venga tagliata. Il 50% delle segnalazioni riguardano appunto quelle aree, ci dispiace, facciamo anche quel tipo di lavoro che per noi non è semplice, è proprio in un momento di piena pressione come quella che stiamo attraversando in queste settimane. Grazie.